La nostra sanità malata, ma anche tanta superficialità. Inizia così il post di denuncia su Facebook di un cittadino di Sapri, nonno del piccolo Benedetto di soli 14 mesi. Un racconto triste che purtroppo evidenzia ancora una volta come la sanità nel Cilento sia sottovalutata. Quello che è successo nei giorni scorsi è di quanto più terribile e grave possa capitare a un bambino e ai suoi familiari, scrive il signor Vito. Mio nipote Benedetto, di appena 14 mesi, sano e senza alcun problema, in soli due giorni si ritrova su un elicottero intubato e imminente pericolo di vita. Sabato mattina mi telefona mio figlio chiedendomi di raggiungerlo al PS di Sapri perché il suo bambino ha febbre alta e respira male. Giungo sul posto appena in tempo per vedere uscire dal pronto soccorso la madre col bambino in braccio. Già a vista il bambino si vedeva molto sofferente e faticava a respirare. Chiesi cosa gli avessero diagnosticato e la risposta è stata questa. Leggero mal di gola, un po' di sciroppo e qualche suppostina e tutto andrà bene, fu la risposta. Invece è andato tutto malissimo. Il bambino è stato curato con le medicine indicate ma le sue condizioni non miglioravano tanto che al mattino successivo mi richiama mio figlio dicendomi di riportare il bambino in ospedale perché stava peggiorando. La situazione stava precipitando rapidamente. Di corsa in ospedale finalmente gli fanno tutti gli esami che il giorno prima non avevano fatto. Questa volta a distanza di 20 ore la diagnosi è stata terribile. Gravissima polmonite, insufficienza respiratoria, bisogna intubarlo e trasferirlo subito in elicottero al Santo Bono di Napoli. Questa è la storia sintetizzata al massimo, questa è la denuncia del gravissimo episodio che non dovrà mai più accadere. Il bambino, sottolinea nonno Vito, è in leggero miglioramento ma non ancora fuori pericolo. Ho deciso di denunciare pubblicamente per far capire che con questa sanità siamo tutti in pericolo. Dobbiamo reagire. Sosteniamo le giuste lotte per l'ospedale e per la sanità territoriale totalmente assente nelle nostre zone. Facciamolo soprattutto per i bambini. C'è bisogno che il territorio alzi la voce e lo faccia subito. L'estate distrae i cittadini dai tanti problemi che affliggono il nostro Cilento ormai da anni e che ultimamente si sta mettendo in serio pericolo anche la salute e la vita di residenti e ospiti. Il nostro ospedale, nonostante le tante promesse del governatore De Luca per il suo potenziamento, sta collassando per mancanza di medici e infermieri e i pochi rimasti non ce la fanno più. Un grande territorio dimenticato volutamente perché poco appetibile elettoralmente ma che ha gli stessi diritti di tutti i cittadini italiani.